Come è la rivoluzione verde? La politica non ha ancora, ahimè, compreso la potenzialità dell'economia verde e non l'hanno capita anche molti imprenditori e molti cittadini. L'Italia non è solo all'ultimo posto rispetto alle scelte governative, ma siamo rispetto agli altri paesi europei la nazione nella quale le famiglie non hanno capito che il sole scalda l'acqua calda. Non capirlo in Italia è veramente duro e riscaldare l'acqua dei rubinetti da Roma in giù è una follia e da Roma in su si può tagliare il 70-80% del costo dell'acqua calda. Noi italiani siamo ancora a livello di scoprire l'acqua calda. Io mi occupo di queste storie da decenni con un gruppo di amici, in particolare Fabio Roggiolani e Michele Dotti e altri. Abbiamo creato un gruppo informale, non siamo un'organizzazione, non siamo nulla di particolare, siamo delle persone che si sono messe assieme e hanno cercato di conoscere che cosa c'era di tecnologie disponibili che realmente potessero essere convenienti oltre che ecologiche e mature anche dal punto di vista tecnico, perché questo è un altro grosso problema. Abbiamo creato l'anno scorso questo festival Ecofuturo che è prima di tutto un evento web ma è anche un evento qui a Alcatraz dove le persone si incontrano fisicamente e toccano con mano le ecotecnologie. E siamo riusciti a mettere assieme l'anno scorso e tanto più quest'anno una quantità incredibile di specialisti, di attivisti dell'ambiente e di politici. Sì, questa è la cosa interessante perché è la novità di quello che siamo riusciti a fare, cioè con il festival dell'anno scorso abbiamo messo insieme un libro bianco di Ecofuturo con dentro tecnologie in grado di tagliare 200 miliardi di spreco energetico e ambientale per il sistema Italia, 200 miliardi poi magari sono troppi, ok, 20 miliardi potremo tagliarli subito e potremo alzare le pensioni minime da 450 euro a 1000 euro minimo e sarebbe veramente questo un cambiamento per gente che non arriva a fine mese e potremo anche dare un sussidio alle persone che sono sotto il livello di povertà. Non si fa, però qualche passo siamo riusciti a farlo, siamo riusciti a presentare questo libro al Senato con la vicepresidente del Senato e con, attenzione, parlamentari del PD, del SEL e di 5 Stelle insieme. Siamo riusciti a fare un piccolo miracolo. I risultati della nostra azione si iniziano a vedere, è passata da un mese poco più una modifica a una parola di un regolamento che riguarda la gestione dei rifiuti fino a un mese fa i comuni erano obbligati, sto per dire un'assurdità colossale, a conferire, a portare nelle discariche lo sfalcio dei prati dei parchi e le potature delle piante dei parchi lungo le strade. Questo comportava una spesa enorme per i comuni e un mancato guadagno perché queste sono biomasse per cui posso utilizzarle per produrre biogasse, per produrre energia elettrica quindi. Ecco, questa legge è stata cambiata, abbiamo ottenuto un risparmio di 200 milioni di euro all'anno per i comuni italiani. Una piccola cosa, però il cambiamento si fa un pezzettino per volta. Quest'anno Ecofuturo sarà dall'1 al 6 settembre e è diviso in giornate, mobilità, auto, casa, energia, sistemi ecologici, smaltimento dei rifiuti eccetera eccetera e sarà un momento di incontro tra aziende, associazioni e parlamentari e mondo dell'informazione. Hanno aderito tantissimi gruppi ecologici, a partire dall'Italia che cambia, ma tantissimi altri, adesso non posso fare tutta la lista andate a vedere sul sito ecofuturo.it tutto quello che c'è nel programma, è veramente un programma enorme. Sarà un'occasione per raccontare a chi è interessato in Italia al cambiamento verde che cosa è possibile fare, saremo in diretta web tutti i giorni con tavole rotonde la mattina e focus tematici al pomeriggio e spettacoli alla sera. Però sarà anche un'occasione per un incontro fisico, per guardarci in faccia, per parlare, molto spesso nei convegni, nelle manifestazioni si conclude più con le chiacchiere al bar davanti a un bicchiere di vino che è nel momento ufficiale e noi speriamo che da questo incontro di Ecofuturo di settembre vengono fuori una serie di iniziative ancora più forti e capaci di cambiare la realtà. Non ci interessa semplicemente dire le nostre opinioni e poi verificare anni dopo che avevamo ragione. Di questo ci siamo un po' stufati. Vogliamo riuscire a trovare il modo di trasformare idee in fatti, in aziende che producono tecnologie che ci interessano. Tra parentesi, a Ecofuturo ci sarà un evento importantissimo, cioè siamo riusciti a creare un dialogo anche qui tra persone che non comunicavano, tra realtà che non comunicavano, cioè le aziende che sono disponibili a fare una geotermia pulita, senza impatto visivo, senza impatto di inquinamento, senza impatto di rumore, le associazioni che si stanno battendo contro la geotermia, giustamente quella inquinante, quella distruttiva, quella impattante, e una serie di tecnici, di specialisti, di professori universitari e di comunicatori. L'idea è arrivare, ad esempio sulla questione della geotermia, a stringere un patto e dare delle regole precise e delle modalità di azione comune, di modo di trasformare una situazione che è stata a lungo di scontro e di stallo in una situazione che porti a dei risultati di cambiamento. Questa è la nostra logica. Vogliamo vedere cosa è possibile fare concretamente, che cos'è il meglio che possiamo ottenere oggi subito, muoversi su quello e poi mano a mano andare avanti per migliorare la situazione. Ci vediamo a Alcatraz dall'1 al 6 settembre 2015. Tra l'altro, chi vuole può scaricare Ecotecno dedicato a Ecofuturo, che lo trovate su tutti i nostri siti a partire da ecofuturo.it, ma anche jacopofo.com eccetera eccetera eccetera. Puoi vedere anche il link qui sotto nel testo di presentazione di questo video su YouTube, c'è scritti tutti i link. Buona giornata, ciao a tutti e speriamo in un futuro un po' più verde perché è meglio. Ciao!